Autopsia dal greco, guardare dentro, è lo studio del corpo umano per studiare la morte. È paradossale, ma nell'era della robotica e della digitalizzazione, quest'esame rimane il gold standard per studiare le cause di morte. Perché è importante studiare la causa della morte? Perché permette ai clinici di prevenirla e di prevenire, studiando le patologie attraverso l'autopsia, le conseguenze più tenibili. Si pensi al Covid e a quanto è stata utile l'autopsia nell'epoca del Covid. Oggi è un esame assolutamente moderno, lo definirei chirurgico, tant'è che per farvi un esempio e per rendervelo chiaro, noi eseguiamo le TAC Spirali Multistrato all'Università di Catania prima di eseguire l'autopsia. L'autopsia è segno di modernità e non è soltanto giudiziaria, ma viene e deve essere richiesta anche a fini scientifici negli ospedali e dalle ASP per studiare questi fenomeni. Dalla morte si impara.